Ciao ragazzi e ragazze, questa sera farò un video in anticipo rispetto ai miei tempi perché oggi sono successe troppissime cose, alcune belle, altre per niente e allora io sono contenta perché fra le cose belle mi ha scritto in chat un mio follower degli USA fra le cose meno belle ho dovuto interagire con persone che mi chiedo se a volte siano passe o ce l'abbiano con me ma in realtà penso proprio che il problema ce l'abbiano soltanto con se stessi quindi io adesso creo Ciao Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.